Sapete cosa state guardando? Questo operatore sta usando uno strumento che a caldo crea delle scanalature su una ruota. Ma è legale farlo? Beh, nel caso di automobili ovviamente non potete rifare le scanalature una volta consumate, ma nel caso specifico la ruota è stata rigommata con uno strato di nuovo materiale, probabilmente un carrello elevatore, e se fatto da un professionista questa operazione è perfettamente lecita.